A partire da lunedì 22 febbraio sarà possibile fare domanda per il Fondo Anticrisi. Il Fondo Anticrisi quest'anno che prevede uno stanziamento molto importante, la prima volta che riusciamo a mettere una cifra così significativa sono 400 mila euro, proprio perché in un momento come questo di pandemia l'attenzione verso le situazioni di fragilità dei più deboli non devono mai venire meno. Quindi un lavoro che abbiamo condiviso con l'assessore alla solidarietà Sara Mengucci, con le parti sociali per individuare i criteri delle famiglie che potranno accedere a questo contributo, un contributo importante perché si parla dai 700 ai 1200 euro a secondo della composizione del nucleo familiare ed è concentrato sulle situazioni di disagio abitativo, quindi su quelle situazioni di coloro che oggi sono in difficoltà nel pagare l'affitto piuttosto che la rata del mutuo della prima casa. E quindi è rivolta proprio ad una platea, se vogliamo, anche più ampia, più larga rispetto alle famiglie solitamente in carico ai servizi sociali, perché la fascia ISEE che abbiamo individuato è anche una fascia di ISEE importante, sono fino a 18 mila euro. Questo a seguito del lavoro di concertazione anche con le parti sociali che ha cercato di individuare oggi quella possibile platea che sta subendo le conseguenze della pandemia. Quali quindi i criteri e come poter partecipare? Allora, i criteri bisogna occorre essere in una situazione appunto di affitto, quindi di locazione, piuttosto che pagare la rata del mutuo della prima casa. occorre essere in una situazione di disoccupazione o di lavoro precario che è aggravata dalla pandemia, avere un ISEE inferiore ai 18 mila euro. Sarà possibile fare domanda, come dicevo, da lunedì 22 febbraio per un mese fino al 23 marzo e appunto il contributo sarà dai 700 ai 1.200 a seconda della composizione del nucleo familiare.